Amici delle api buongiorno, siamo nell'appiario di montagna, stiamo facendo un esperimento per sublimare ossali con trattamento antivarroa con un prodotto naturale permesso anche in apicoltura bio e sostanzialmente siccome gli apparecchi che ci sono in circolazione per fare questa operazione costano un sacco di soldi e noi apicoltori principianti insomma cerchiamo di spendere il meno possibile provo questo nuovo apparecchio che mi hanno consigliato lo provo e vediamo cosa succede naturalmente si tratta di un esperimento non voglio insegnare niente a nessuno sicuramente commetterò un sacco di errori questo è semplicemente un videodiario io sono un apicoltore principiante che tiene appunto un videodiario per raccontare la sua avventura per cui se vedete qualcosa di strano se non vi piace quello che faccio se mi volete dare un consiglio su come fare in maniera diversa tranquilli basta scriverlo qua sotto e io assolutamente lo leggerò e vi risponderò se è possibile consigli suggerimenti anche insulti se preferite non mi offendo naturalmente se il video vi è piaciuto abbonatevi iscrivetevi al canale abbonarsi non si paga niente e così potrete seguire altri di questi video probabilmente deliranti ma insomma si fa quel che si può grazie mille ciao arrivederci allora lo strumento semplicissimo sostanzialmente abbiamo questa specie di pacchetta comprata sui siti di acquisti cinesi credo una ventina di euro che si collega con una batteria sostanzialmente si mette in questo spazio il lo salico si attacca la pinzetta alla batteria questo si surriscalda e sublima lo vediamo perché io lo sto provando perché non voglio vedere se questo apparecchiettino qua funziona ugualmente anche perché i costi sono decisamente diversi dopo averlo azionato non facciamo altro che inserirlo sotto nel vassetto antivarola ecco qua vedete lo abbiamo inserito bisogna stare molto attenti ad usare maschere e con filtri apposta per acidi naturali comunque con filtri particolari che potete comprare tranquillamente dalla 3 della 3m perché questi vapori sono ovviamente tossici e sono nocivi mettiamo sul davanti uno straccetto a coprire l'ingresso quanto più possibile e poi aspettiamo che lo salico sublimi e si trasformi in una nuvola tipo una nebbiolina attenzione lo ripetiamo occorre utilizzare una maschera protettiva con filtri credo che si trovino tranquillamente online io l'ho comprata da sempre da alibaba o wish una ventina di euro e poi naturalmente i filtri li ho presi qua perché non è che mi fidassi molto ecco si vede credo un vapore di acido salico io lo infilo nel cassetto antivarroa perché attraverso la griglia antivarroa sale verso l'alto e non devo aprire e metterla davanti che ucciderebbe molte api mi hanno detto comunque un esperimento vediamo abbiamo estratto l'apparecchio da sotto diciamo così l'agna ed è utile avere un secchiello con dell'acqua per raffreddarlo adesso è già raffreddato ma perché così può essere utilizzato rapidamente come vedete la vaschetta ha già la sua bella dose calcolata direi che se funziona è ottimo